Quest'anno alla Libera Università del Sapere Critico proponiamo un corso sull'Unione Europea, una controstoria dell'Unione Europea. Di solito l'Europa è narrata come una costruzione di pace e di prosperità, una lettura retorica che non regge più i tempi. Occorre decostruire il mito dell'Europa e lo faremo attraverso un'analisi rigorosa nei vari passaggi della costruzione europea, a partire dall'europeismo degli anni venti, per arrivare alla seconda guerra mondiale e mostrare come la costruzione europea in realtà è stata una costruzione influenzata soprattutto dagli istituti uniti d'America, in chiave appunto antisovietica. Dopodiché passeremo in rassegna tutte le varie fasi della costruzione comunitaria e vedremo come la centralità di questo progetto è stata assegnata sempre al mercato. E la solidarietà, la coesione invece veniva in secondo piano. Occorre appunto una lettura che si smarchi dalle letture mainstream che vengono fatte dell'Unione Europea per cercare in qualche modo di, da un lato, di vedere quali sono gli assetti di potere realmente esistenti, soggiacenti alle istituzioni stesse, dall'altro per cercare di riattivare una nuova narrazione dell'Europa appunto. Un'Europa che non coincide forzatamente con l'Unione Europea. Il particolare riguardo sarà dedicato al fenomeno dell'ordoliberalismo o la cosiddetta economia sociale di mercato, in cui vedremo appunto che in realtà l'aspetto della coesione è una maschera che nasconde invece il vero obiettivo dell'Unione che è quello di essere un presidio appunto della concorrenza e del mercato. Il corso inizierà il 17 ottobre e terminerà il 19 dicembre 2017. Quindi per chi desidera gettare uno sguardo su un'Europa diversa da quella che raccontano i giornali e da quello che racconta la retorica europeista credo sia una buona opportunità per conoscere meglio appunto questa realtà e per capire meglio la questione europea.